Ultimo atto della stagione regolare domani sera, inizio ore 20, Fermana, Pescara e Biancazzurri vogliono la vittoria per chiudere al meglio il campionato e provare a superare al sesto posto la Juventus Next Generation impegnata a Pesaro. I bianconeri in caso di successo blinderebbero quella posizione ma con un eventuale pareggio e o un eventuale sconfitto e la vittoria della Pescara i Biancazzurri effettuerebbero il sorpasso. Non ci saranno Aloi e Masala in Fortunati, squizzato, squalificato, ha recuperato Pellacani anche se la sua condizione non è ottimale. Scelte fatte da parte del tecnico Cascione che però in conferenza stampa non ha svelato la sua formazione, sarà da gasso a fare il play davanti la difesa. Con le immagini di Diego Martelli andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Emanuele Cascione. Aloi continua a lavorare a parte, è rientrato Pippo Pellacani che si è allenato con il gruppo, naturalmente non ha ancora una condizione ottimale. Masala anche lui fuori per un problemino e poi per il resto parte squizzato, squalifica. Dubbi di formazione? Diciamo che stanno tutti bene, sono tutti a disposizione, quindi nella mia testa ho già deciso qual è la formazione che scenderà domani in campo. Forse è ancora una piccola cosa da valutare per quanto riguarda Davide e Merola che comunque si porta dietro con questo piccolo fastidio. Come sta di Pasquale perché ha fatto una fetta di stagione importantissima e se sta risalendo un po'... Premesso che il discorso di Ivan lo prendo come esempio per quanto riguarda la prestazione e gli errori che sono stati fatti domenica. È un esempio che è stato determinante, però Ivan viene da un periodo ottimo di grande affidabilità perché sta facendo molto bene, molto molto bene in tutte le partite che sta disputando. Quindi è un episodio che è successo a lui ma è successo anche a tutta la squadra bene o male. Poi magari è normale che se tu fai una corsa più lenta in mezzo al campo si nota di meno, però è determinante ugualmente perché se noi riusciamo a essere più aggressivi dall'inizio non abbiamo bisogno poi dopo di metterci in area di rigore a difendere. Quindi l'errore è di base. Poi quella è stata la parte finale dell'errore generale della squadra. È solo un esempio, però sono molto contento di Ivan. Per quanto riguarda Davide, Davide è un ragazzo che mi sta dando una grandissima mano nello spogliatoio perché si sta dimostrando un giocatore di una professionalità importante. Domani ho bisogno di una squadra che capisca l'importanza innanzitutto della partita perché questa partita qui, se viene fatta nella maniera giusta, ci fa affrontare i play-off con un'altra mentalità. Se invece andiamo in campo, come abbiamo fatto domenica, facendo comunque un passettino in meno rischiamo di arrivare poi dopo un po' sotto tono e in maniera negativa alla prima partita dei play-off. Quindi la fermare è una squadra che sta bene. Una squadra che con il nuovo allenatore ha perso due partite e basta. Ha fatto 11 punti. È una squadra che ha cambiato il modo di giocare in maniera ancora più aggressiva. Ha capito l'importanza comunque del periodo. Nonostante comunque sia in una posizione molto complicata, è una squadra viva. Quindi se andiamo lì pensando di dover fare solo la partita sotto profilo del possesso palla commettiamo un grandissimo sbaglio e non usciamo con le ossa rotte. Noi dobbiamo cercare intanto di fare un'ottima partita, di cercare di raccogliere più punti possibili domenica e per cercare di piazzarsi nella posizione migliore e affrontare poi play-off con fiducia e con positività. Faccio l'ultima mister sull'attacco. Da come ha visto nelle sue partite Cuppone, da come ha visto Vergani e da questa settimana di allenamento in ottica partita di domani cosa può dare di più Cuppone e cosa può dare di più Vergani per caratteristiche? Ma per caratteristiche sono giocatori, Edoardo ha avuto un po' di difficoltà magari l'ultima partita perché non è stato servito molto, ha avuto solo un'occasione e quindi pensavo fosse la partita giusta per lui per cercare di farlo crescere di condizione, però come ho detto ha trovato anche meno spazi, si è sacrificato molto in fase difensiva però a livello offensivo non ha avuto grandi chance anche comunque di andare in profondità, è venuto spesso incontro però quello che devo vedere è anche come sta durante la settimana perché quando ha incominciato con me veniva da un infortunio quindi la condizione ci ha voluto un pochino per entrare in condizione, ha una fisicità molto importante ha bisogno anche di continuità di gioco, mentre Gigi è un giocatore diverso, un giocatore che spazia un pochino per tutto l'attacco riesce ad avere una grande facilità di corsa, quindi da solo si crea la profondità più che altro rispetto a Edoardo Edoardo magari deve essere servito più in maniera precisa e poi dopo può diventare un giocatore importante in quel momento Gigi è un giocatore che se lo cerca di più, magari ha meno caratteristiche offensive in area di rigore però è un po' più bravo negli spazi poi a campo aperto